Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Fanny Gameric, siamo tornati su Resident Evil 4 Remake e siamo ragazzi al poligono di tiro che era accanto al mercante, qui su... prima di arrivare alla sala di ballo guardate Ashley dove è seduta, la vedo un po' vogliosa, di cosa? Cosa vuoi Ashley? Che cosa vuoi? Perché mi guardi così? Guardate, sembra tipo leggermente drogata ragazzi, non so Vabbè, vi faccio vedere un po' ragazzi, diciamo, quello che mi piace di più Allora ragazzi, questo di qua sono riuscito ad ottenere la S ma tutti gli altri che sono appassi adesso, che sono quelli nuovi, ho fatto A e quello che mi è piaciuto di più è questo di qua, vi faccio vedere solo questo ragazzi Così vi faccio vedere Ashley cosa dice mentre io sparo 3, 2, 1, via! Adesso, 3 in una volta! 3 in una volta! Colpo grandioso! Triplo colpo! Incredibile! Aspetta No, non l'ho presi forse Vabbè Attenzione Eh, uno l'ho preso Non è importanza ragazzi, era solo per farvelo vedere Bello, bello Che fai, andiamo Ashley? Non mi guardare così Non mi guardare così Lì o ne vedi che è fissato con Ada Non vuole, non ha interesse per te Allora Ragazzi Adesso Con i gettoni vediamo cosa ci danno Tu sì che sei un vero esperto Eh Dammi parlare così Che divento rossa Vediamo cosa ci danno così Ashley Graham Epico Salute ripristinata con le piante verdi Più 50% Ma questo mi interessa Metterlo Proviamo un altro Don Pedro Comune Salute ripristinata con le vipere 40% Ma questo non è Però Può servire pure Quando troviamo le vipere Vediamo con tre di questi Isabelle Salute ripristinata con le vipere 30% Però se me ne pentiamo qualcuno Non lo so ragazzi Vabbè Saliamo Continuate sempre a lasciare like ragazzi La pausa è finita presumo Allora Aspetta aspetta qui Dicendo dove si mettono Allora io Posso mettere Il tuo ciondolo Ashley Dai ti faccio contenta Salute ripristinata con le piante verdi 50% Questo non mi serve A presto di rivendita Gli oggetti curativi Perché io Li uso Non è che li vendo O almeno Non so se parla anche Dei pesci E delle vipere Magari non parla Solo delle erbe Non lo so ragazzi Salute Salute viper Boh Io lascerei così Onestamente Le viper Non le uso Per curarmi Può capitare Reramente Ma non le uso Aspetta salvo Benvenuto Abbiamo una bella selezione Di articoli in vendita Straniero Tra l'altro Vengono pochissimo Isabella e Don Pedro Oddio alla tua vita Vabbè ragazzi Non ci basta nulla Non possiamo comprare nulla Vediamo se possiamo Sì Munizione immetragliatrice Aspetta ma Qui cosa c'è ragazzi Sembra che è un piccolo cieco Ma Camera di udienza Ah eh Si va alla camera di udienza Con questo Ok Ok Meglio a saperlo Abbiamo solo il meglio del meglio Noi ci salutiamo Mercante Ci vediamo dopo Allora qui Ci dovrebbe essere Ecco Il primo Ci deve essere uno Qui sopra Questo è chiuso? Si Niente Guarda c'è una statua lassù Ah Ora andiamo a vedere Ashley Intanto vediamo No Non c'è niente Qui No Comunque Guardate che decorazioni ragazzi Vediamo qui Questa si apre Oddio Qui cosa c'è Perfetto Queste si che mi servono Guardate 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 L'ho trovato C'era Mimetizzato Questa si apre Si Allora abbiamo due porte che si erano qui sopra Però intanto Vediamo qui cosa c'è Questa statua Ma qua c'è Un'altra missione Un'altra disinfestazione I ratti hanno infestato un'area del castello E ora stanno rosicchiando tutti i libri preziosi Ma a quegli eretici non frega nulla Vi prego che qualcuno si occupi di quelle carogne prima che sia troppo tardi E elimina tutti i ratti Mi sa che già ragazzi Li abbiamo incontrati prima No È sala da pranzo Sono anche qui Vabbè ora Ci andiamo E questo è il terzo Questo è stato Ci va qualcosa Le teste Dobbiamo trovare le teste Ok C'è un'immagine sulla parete Ecco Ah dobbiamo trovare Una testa di leone Una testa di serpente Una testa di capra Capricorno Quello che è Intanto entriamo qui ragazzi Non lo possiamo vendere vero? No Comunque sta salvando ragazzi Qui c'è un serpente Una statua di due serpenti Ecco Due serpenti Dobbiamo prendere la testa Qua abbiamo trovato la prima testa La prima testa però Dobbiamo capire come prendere Ah io mi ricordo questa tavolata Non ti ho detto nulla Ashley Tutte cose tu hai detto Ma No aspetta 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 Che vuol dire? No aspetta Prima di sederci E ordinare La cena Dobbiamo capire Cosa c'è In questa stanza Dimmi Ti assegnano spesso missioni Come questa? Beh si Ma di solito Non ho una compagnia Così piacevole È un complimento Prendilo come vuoi Mi sa che ti sta sfottendo Ashley O per lo meno Lui preferirebbe Ada Però dico Anche lei va bene Per l'Ione No? Questo sarà uno di loro Diciamo di questo castello Delle vecchie Delle generazioni scorse Ok Forse In quello col vino Ci devo sedere io E in quello con questo bicchiere Ci deve sedere Ashley Da quanto ho capito Allora A quanto pare è così Mi sa Allora Allora Probabilmente in questa Mi ce devo sedere io Non è difficile Ragazzi Aspetta Riguardiamo il bicchiere C'è anche un piatto Un piattino Vuoto Probabile sia qui Ashley Ok Allora cosa accade Ragazzi Non succede niente Mi sa che abbiamo sbagliato qualcosa Aspetta 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 Ashley Ah ecco Perché noi nel piattino Abbiamo l'uval lì Invece ci deve essere il pane Ok 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 Mi sa che è questo ragazzi Il posto Vediamo un po' Sì Ci siamo riusciti Ora chi viene? Che? Perché sei venuto a incontrarmi così? Ora prendiamo la testa E succede qualcosa No A quanto pare no Forse No Bene Mettiamo la testa di serpente Qui Dov'è che si mette? Ok 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 Qui Credo Vabbè Ce la metto da solo Ecco E' nata mali Io non aspetto degli enigmi Ashley Però ragazzi A questo punto Salverei il primo passaggio Saremo Ashley Allora andiamo da questo lato Allora andiamo da questo lato Vediamo cosa incontriamo qui Sta salvando C'è gente No aspetta 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 Intanto Intanto ci freghiamo a questa Vediamo dall'altro lato cosa c'è ragazzi Così magari facciamo il meno complicato Quello più complicato lo lasciamo per ultimo A meno che non sia questo quello più complicato Dato che le vedo Un'armatura Se non si anima Se non si anima Beh Leon prendi un'armatura Vuoi usarla come giubbotto antiproiettili? Un po' fuori moda per i miei gusti No peccato Penso ti starebbe molto bene Mi sa mi sa che ora ci attaccano Ashley Ci attaccano mi sa Ce n'è quattro qui Stiamo attenti Ci stanno dando un bel po' di cosa Piccola chiave Comunque c'è Il coso qui ragazzi Il medaglione Attenzione Ho paura di questa armatura ragazzi Sta salvando Qui vedo una boss fight ragazzi Là c'è la testa La testa di Leon Ma Intravedo una boss fight Qua 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 Ok Manca l'ultimo medaglione Che si trova qui Nella galleria C'è nell'altra porta Allora ragazzi Prepariamoci qui Eh ma ci sono anche I centauri Ho paura che questi si attivano Ragazzi Ashley Tu resta lì Ok Sta attento Aspetta 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 Prima ci prendiamo le munizioni C'è C'è andato a tante munizioni Ragazzi Guarda qui c'è un altro Guarda qui c'è un altro Questa roba cosa succede No no Bisogna che si apre con Ashley Sì ci vogliono due persone Niente ragazzi Dobbiamo prendere la testa E sconfiggere secondo me Tutti questi Tutte queste armature Ecco Lo sapevo Le armature No non ci posso credere Attenzione Brava 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 Allora aiutami Ashley E' uscita pure gli spinelli Brava brava Visto che serva a qualcosa Sì Ancora ce n'è Cosa devo usare Oddio Vai al diavolo Strozo arrugginito Sì Uno è morto Dai Attenzione Aspetta aspetta Forse possiamo creare munizioni No Ci manca la povera da sparo Aspetta aspetta Forse con questa Ecco 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 Attenzione 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 E' morto E' morto E' morto No Non è morto Sì Ora è morto E' rimasto solo lui Perfetto E' morto E' morto E' morto Perfetto Buonanotte Cavalieri Cavalieri Cosa ci hanno dato Un casino di spinelli Vieni Vieni Ashley Buttati che è morbido Bruciato Sei stata brava Ah per le cose che lanciava Spettacolo però ragazzi Spettacolo Mi è piaciuto Allora Aspetta Granato assolvento Perfetto Z dobbiamo trovare La povera da sparo Quella Vai Ashley Aspetta Ci sono munizioni Qui Ecco Possiamo andare Dall'altro lato Sempre se Questa armatura Non mi colpisce Sta salvando Spero di no Ah è dispositivo cubico Quello per Dove c'è il mercante Un topo Un topo Comunque troppe risorse Stiamo trovando Ma questo È diverso Vieni Vieni Ashley Ok 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 ragazzi Andiamo a mettere Questa testa Ci manca ancora un pezzo Sì E si trova là Nella galleria Ricorda che Sparare fa rima Con giocare Straniero Inseriamo questo Ragazzi Ah dobbiamo Vedere come metterlo Mi sa che è così Si mette Si Perfetto Lampada con farfalle E forse Ecco Ce l'abbiamo ancora A questo punto Andiamo Nella sala principale Ragazzi Abbiamo l'altro Sì ragazzi Aspetta Prima salviamo Tu non soffri Il mal di mare Vero Stai per scoprirlo Ci siamo Per a giù Sì Ah ecco dove portava Si Oh ma che cazzo è Vabbè Ma che cazzo è Era meglio che non ci venivo Qui Ok 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 Ce l'ha ancora Eh vabbè Mi ha preso Ah ci li vattene Vabbè Vabbè Vaffanculo Levati Che va andare lì Dove lo stai portando La cazzo La cazzo la stai portando Vieni vieni Andiamo Ok Che cazzo è Perché c'è questa qui Ma che cazzo è Perché ci sono venuto qui Che cazzo è Il problema è morto Ok Ok Questa è meglio 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 Allontanati Non mi starà appiccicata Dai apri la bocca Oh mi ha spottato Dai Dai Vabbè Quello rosso Vai vai Sì Finalmente Verillo rosso Oh cavoli Ragazzi Tra l'altro Mi ricordo che c'era anche Un tesoro chiuso Con Cioè che si doveva aprire Con la chiavetta Mi sembra Sì sì Qui Perfetto Parra d'oro Prendiamo sto tesoro Ragazzi Allora Così credo No No Ah sì Ok Dea della giustizia 12.000 La statua di una solenne divinità che regge di fronte a lei la bilancia della giustizia Bene ragazzi Bene 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 Diciamo che qui abbiamo preso tutti i tesori Sì Non ce n'è più ragazzi Di questo lato Possiamo ritornare Dove eravamo prima Non mi aspettavo di trovare questa accoglienza Andiamo Aspetta Andiamo Vieni Ok Ok Per prendere qualche tesoro L'odore della battaglia ti si è appiccicato addosso amico Eh sì 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 Allora Ah quanto pare lo possiamo usare ancora Che non è spuntata la B Comunque ragazzi Qui ci vanno quelli rotondi Non ci vanno questi Ecco Dobbiamo trovare quelli rotondi 6.000 Non vale la pena venderla Che è stato ragazzi Va bene dai Vendiamo le cose E poi Chiudiamo il video Allora Parla d'oro Questa è solo L'attacchio è prezioso E non fa differenza Aspetta a noi però Decidere il prezzo Grazie Munizioni Magnum Le informazioni hanno un prezzo al giorno d'oggi Eh sì Così a meno possiamo creare altre munizioni Per la Magnum Che ancora non l'abbiamo usata ragazzi Quell'arma La useremo forse nel prossimo video No ragazzi Dobbiamo riparare il giubbotto Non lasci nulla al caso Sei sempre pronto a tutto Così si fa Capacità Ecco a te Come desideravi Modificare Vediamo su scambio 8 spinelle abbiamo preso Dall'armatura ragazzi Non possiamo fare a meno delle piante Guariscono Uccidono Hanno mille usi Allora 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 Io prenderei Il calcio TMP Per la mitraglietta Perché riduce il rinculo E migliora la precisione Ora puoi dare una lezione a quei ragazzacci Eh Però ci sono finiti gli spenelli Bene Che posso fare per te Torna presto a trovarti Proviamolo Proviamolo Eh però guardate quanto si prende Caso me ragazzi Se Se lo spazio non ci basta depositiamo un'arma Magari lancia flecce Vedremo vedremo Intanto proviamola Uh ragazzi si è ridotto il mirino Bellissimo Ma ci è servito un botto ragazzi Guardate così si allarga giustamente perché mi muovo Ma quando mi fermo si stringe È perfetto Va bene dai Era tutto largo prima così Anche se ero fermo Ora invece quando mi fermo si stringe Perfetto Ovviamente è più stabile Tipo quando sparo non fa così Perfetto ragazzi perfetto Sono contento Sono contento Della scelta che ho fatto Nemmeno rimosso Nemmeno rimpianto Salviamo ragazzi E credo che possiamo continuare Nel prossimo video ragazzi Per prendere l'ultima testa Che si trova nella galleria Ecco Qui Nella galleria Che c'è anche l'ultimo medaglione blu Per la missione del mercante Va bene ragazzi Ci vediamo al prossimo video Un saluto a tutti Grazie a tutti